salve amici bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale prima di cominciare voglio ricordarti di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto ricordati anche di cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video ma adesso basta parlare cominciamo subito il primo video è stato realizzato da questo ragazzo secondo la sua testimonianza la sua casa sarebbe infestata da uno spirito maligno il ragazzo decide di prendere una telecamera e di documentare tutto ciò i fenomeni accadrebbero mentre lui dorme per questa ragione il ragazzo decide di rimanere sveglio e documentare il tutto ciò che riprende è davvero impressionante questo è ciò che è stato filmato cool stuff right laundry room see in there ain't gonna open that other door this place creeps me out bathroom all the bathroom stuff yeah whoopee and here's the spare bedroom air mattress awesome closet also awesome and where we've seen most of the stuff happen is right here in the bedroom it's kind of weird maybe that whatever it is has a thing it's the bedroom we'll show you everything and I will back out to show you that I have no nothing to hide this is me this camera stand and maybe we can get something on tape ok ok i ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. That's the shit I'm talking about right here. Closing this door just to prove there's shit going on in this house, man. That's the shit going on in this house. 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 porte che si aprono rumore di passi come se non bastasse in piena notte la cucina si accende da sola questo potrebbe essere molto pericoloso basta una disattenzione e lo spirito potrebbe dar fuoco all'intera casa in una costruzione abbandonata in medio oriente un esploratore urbano nota una strana figura muoversi in questa costruzione ciò che viene ripreso è davvero impressionante questo è il filmato arrivato davanti alla costruzione abbandonata l'esploratore nota questa strana figura nascosta dietro questo muro a quel punto decide di entrare una volta entrato però non trova nulla di strano e di quella strana creatura sembra che non ci sia nessuna traccia secondo voi potrebbe essere uno spirito un demone o lo scherzo di qualcuno che voleva prendersi gioco di quell'uomo fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate dagli esploratori urbani entrano in questo edificio abbandonato lo stesso edificio sarebbe infestato da spiriti maligni e avrebbe anche una maledizione una volta entrati cominciano ad esplorare il luogo i ragazzi non sanno però che più avanti incontreranno qualcosa che li terrorizzerà a morte questo è ciò che è stato filmato con il luogo i ragazzi non sanno che è stato fatto attrappare che è stato fatto che è stato fatto anche un gioco una volta cominciata l'esplorazione ad un certo punto i ragazzi notano in una stanza una sagoma completamente nera logicamente i ragazzi si spaventano e fuggono via cosa normale visto che sapevano della maledizione e sapevano che quel luogo era infestato andare a caccia di spiriti potrebbe sembrare una cosa banale ma non lo è affatto anzi potrebbe essere anche molto pericoloso siamo arrivati alla fine ragazzi il video finisce qui fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi filmati e noi come al solito ci rivediamo alla prossima ciao ciao